Non hanno più il posto di lavoro da due settimane, cacciati senza preavviso il 13 marzo scorso dai laboratori e dagli uffici, dove per oltre 20 anni hanno dato vita a progetti di ricerca per sconfiggere il cancro insieme ad AIRC, le malattie rare con Teleton e ancora le malattie cardiovascolari, la fibrosicistica e altre ancora. Fuori dai cancelli ormai chiusi dal prefetto di Chieti, che ha messo in liquidazione la neofondazione gravata da circa 8 milioni di euro di debiti, accumulati negli ultimi anni di gestione su cui indaga la magistratura in seguito a tre diversi esposti, 30 dipendenti si sono organizzati in turni, dandosi il cambio mattino e pomeriggio nel presidio permanente. Tra acqua, caffè e bombolette di vernice spray affettano anche una colomba pasquale, che offrono idealmente al presidente della regione Abruzzo, quello stesso Luciano D'Alfonso, che in campagna elettorale promise di tornare nell'incontro con una parte del personale, l'intervista rilasciata al Tg Max il 17 febbraio 2014. Oggi sono venuto, tornerò a fare un incontro anche di dettaglio con tutto il personale e poi voglio assumere impegni precisi per poterli mantenere nel dettaglio. Non poteva mancare una fotografia, una presenza qui, che è un luogo bandiera della ricerca e dell'innovazione dell'Abruzzo. Pensata questa iniziativa decenni fa è purtroppo invalidata anche da assenza di premura e di cura. Noi dobbiamo sapere che la competenza di chi ci lavora, se aiutata dal supporto di chi ha responsabilità istituzionali, deve tornare a fare risultati. Anche perché l'economia nella sfida internazionale della globalizzazione o è capace di produrre qualità, altrimenti è soccombente. Voglio dare una parola di rassicurazione a chi ci lavora. La regione non sarà né distratta, né assente, né minimalista, né superficiale. La regione farà valere tutto il suo potere anche di protagonismo istituzionale, sia nell'interloquire con le agenzie nazionali destinate agli investimenti, sia con gli istituti, anche nazionali, che fanno ricerca. Noi non vogliamo che realtà di questo tipo, che vengano dal passato, nel futuro non abbiano la forza di vivere e di svilupparsi. Tutti colpevoli, gli ex componenti dei CDE e della direzione che si sono susseguiti da consorzio a fondazione. I nomi e i cognomi sono scritti sugli striccioni freschi di spray appesi al sole, vicino alla strada provinciale che collega Fossa Cesi a Lanciano. Chiunque può leggere. Sono loro il dischettino del Negri Sud. I commissari stanno completando l'inventario, gli strumenti della ricerca andranno all'asta, i progetti sono bloccati, tutto il lavoro di ricerca sarà irrecuperabile e a giorni saranno staccate anche le utenze. Poi, dice Vincenzo Di Matteo, RSU CISL, l'atto finale sarà il licenziamento collettivo. I progetti di ricerca in corso sono stati tutti bloccati, purtroppo, come già noto, quindi tutto il materiale biologico ormai è stato abbandonato, completamente abbandonato. Non so che fine farà. Si dice che fra qualche giorno toglieranno anche la corrente elettrica, per cui io non so come potrebbe andare a finire questa storia. Tra l'altro ci sono ancora nello stabolario una ottandina di topi, che non so che fine faranno. Gli animalisti ad oggi non si sono ancora visti? Beh, gli animalisti non si sono ancora visti.